La polizia di Detroit, gli assistenti di polizia android sono operativi danni ormai ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale Abbiamo contattato la Cyber Life Ricordiamo i passi certi, gli androidi devono viaggiare nell'area disegnata C'è un uomo dove stare fuori di me Trova il cerchio C'è un uomo dove stare fuori di me Grazie a tutti 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 Benvenuto a Gerico Benvenuto a Gerico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti